la tregua al caldo di questi giorni purtroppo non durerà molto secondo le previsioni meteo infatti in arrivo su tutta l'italia una nuova ondata di grande caldo che porterà un aumento delle temperature dalla metà del mese lo ha confermato a fanpage.it il tenente colonnello dell'aeronautica militare guido guidi che spiega l'aria più fresca che stiamo percependo ci accompagnerà nel weekend e nei primi giorni della settimana poi torneranno i venti caldi da su delle temperature saliranno spiega il colonnello guidi siamo solo a luglio ma finora ha fatto molto più caldo rispetto alle attese in più l'estate è iniziata presto già da fine maggio inizio giugno abbiamo massime alte e picchi di calore cosa aspettarci nelle prossime settimane è presto per dirlo ma il grande caldo non sparirà